Non entrate in quelle mani delle mafie perché chi entra in quelle mani delle mafie non ha vie d'uscite o è il carcero o è il cimitero e chi fa uso di sostanze stupefacenti non fa altro che aiutare quella criminalità organizzata a crescere. Ma non solo quello, ma chi fa del bulo in classe comincia a essere già un piccolo mafioso. Salvare i giovani facendo in modo che non finiscano nelle mani delle mafie è la sua ragione di vita e per questo motivo gira tutta l'Italia per incontrare i ragazzi nelle scuole, nelle piazze, nelle associazioni, nelle parrocchie. Pinuccio Fazio ha perso il figlio Michele, un proiettile vagante. La sera del 12 luglio del 2001 ha raggiunto il 15enne tra i vicoli di Bari Vecchia mentre stava rientrando a casa per cenare con tutta la famiglia. È stato ucciso da uno dei colpi esplosi nel corso di un regolamento di conti fra bande rivali della Sacra Corona Unita. Gli autori dell'omicidio sono stati arrestati grazie all'allora capo della squadra mobile della questura di Bari oggi questore di Pescara Luigi Liguori. Commovente l'abbraccio con Pinuccio Fazio alla presenza degli studenti della scuola primaria Michetti Pascoli della dirigente dell'Istituto Comprensivo numero 4 Daniela Morgione e di Leo Nodari, fondatore del premio Paolo Borsellino nell'ambito del quale a 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio è stato organizzato un incontro. È stata un'esperienza molto bella che conservo, molto bella sotto il profilo investigativo, sotto il profilo umano purtroppo ecco partecipare, vedere dei ragazzini che hanno perso la vita Michele io non l'ho visto perché ero alla DIA, però ho visto anche gli altri Gaetano Marchitelle, un'altra vittima quando arrivai sul luogo del sopralluogo, vedere le scarpette da ginnastica che fuoriuscivano da quella in suola è un sogno che purtroppo faccio spesso ed non è bello rivedere il corpo di un bambino massacrato. Questo incontro di oggi fa parte di tantissimi altri incontri con testimoni di legalità che stiamo facendo nella scuola grazie al premio Paolo Borsellino che è stato ideato dal giornalista Leo Nodari. Questo incontro fa sì che i ragazzi nell'ambito di tutto un progetto interdisciplinare sulla educazione e la legalità possano venire a contatto con persone che hanno vissuto sulla loro pelle situazioni che hanno portato poi con coraggio e con impegno a mettersi contro la mafia quindi è un modo per aiutarli a crescere e a strutturare meglio la loro personalità.